Allora, Emanuele, dov'è il nostro corpo? Non c'è. Non c'è il nostro corpo. Qual è il nostro corpo, Emanuele? Dov'è il corpo di Emanuele? Eccolo! Vieni un po', alzati un po' in piedi. Il corpo Emanuele va dalla testa... Toccati un po' la testa. In piedi, in piedi, in piedi. Dalla testa fino a... giù, 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 gi Questo? Il co? Il collo, dove metti la sciarpa. Questo come si chiama? Lo stavi dicendo prima, il mento. E questa? La fronte. E queste? Le braccia. E queste? Le mani. E queste? Le dita. E questa? La fronte. Lo sai come si chiama questo? Il petto. Bazzi un po'. E queste lo sai? I tuoi coppi. Le spalle. Questi lo sai che sono difficili, come si chiamano questi? Spalle. I gomiti. Gomiti. Appuntiti, appuntiti. E questo? E queste? Le ginocchia. Queste sono le ginocchia, ma queste e queste sono le gambe. E questi? Il piede. Ce la fai apprenderti a fare l'equilibrio? Testa. Occhi. Naso. Orecchie. Fronte. Bocca. Mento. Le guance. Il collo. Le spalle. Il petto. La pancia. le braccia le mani le dita i go ci abbiamo lasciato i polsi il le gambe le le g g i piedi e questa ce l'abbiamo lasciata questa che cos'è? la pancia no la pancia sta davanti dietro c'è la schiena attacchiamoci un po' schiena 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 no la tua schiena sulla mia schiena eccola la mia schiena vieni qua attacca la schiena attacca le mani con una colla magica attacca il naso col mio col mio attacca la pancia ma no la terca la pancia la pancia la pancia i piedi i piedi i piedi i piedi no? ti metti giù e attacchi i piedi con i miei i piedi dove stanno i piedi di Emanuele? ecco no qui sono le mani i piedi qua attacca attacca con mamma attacchiamo testa testa con una colla magica e pollice pollice no il pollice il mignolino mignolino piccolo dito piccolo della mano ultimo dito e guancia guancia la guancia con la guancia poi c'è la tua guancia su quella di mamma no la mano la guancia il bacio bocca a bocca che altro vuoi attaccare con mamma? le gambe le gambe vogliamo attaccare? si li attacchiamo così gamba e gamba attaccata che altra parte del corpo vuoi attaccare? che altra parte del corpo vuoi attaccare? la bocca? la bocca? lo sai Emanuele che adesso andiamo a disegnare il nostro corpo su un grande foglio lo vogliamo fare? come no? lo andiamo così ci stendiamo su un grande foglio disegniamo la nostra sagoma del corpo e poi lo andiamo tutto a colorare dobbiamo fargli la faccia le mani i piedi dobbiamo colorare tutto gli occhi anche i capelli sei pronto? no i capelli i capelli non fanno parte del nostro corpo? no eh prima non li abbiamo rovinati anche i capelli lo facciamo? no sì l'entusiasmo adesso lo andiamo a fare e poi non manda pim pam pum il naso toccherò naso, orecchie, bocca pim pam pum naso orecchie bocca mando un bacio pim pam pum un braccio muoverò muovo anche l'altro pim pam pum e... mando pim pam pum la pancia toccherò faccio un giro tondo pim pam pum e... batto massaggio batto massaggio pim pam pum un piede batterò batto anche l'altro pim pam pum bim pam pum pim pam pum la testa toccherò faccio un giro tondo dico sì dico no 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 a di a a a a a a a Grazie a tutti